Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato una nuova poesia dal titolo Movimento Migratorio. Spero che la condividerete dopo sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Movimento Migratorio perché molti popoli sono costretti a fuggire dal proprio paese a causa della fame che alza le sue pretese, a causa di guerre intestine, a causa di dissidi e disturbi, delle varie fazioni per un qualcosa. Molti fratelli sono costretti ad emigrare per cibarsi, per mangiare, perché i loro problemi hanno posto una base evidente e di blocco per certe funzioni vitali. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Movimento Migratorio. Molti popoli sono costretti a fuggire dal proprio paese a causa della fame che alza le sue pretese. Molti fratelli sono costretti ad emigrare per mangiare, perché i loro problemi hanno posto la base evidente. Molti bambini vorrebbero un futuro certo e migliore, ed il Signore implorano per cercare una luce più forte. Movimento Migratorio va aiutato nel dare dignità e aiuto costante al povero fratello che vede nel prossimo una speranza come appoggio. Grazie e spero la condividerete dopo. Arrivederci.